In principio c'era la parola, perché in principio non c'era solitudine, ma dialogo con qualcuno. Dio in principio ha creato tutto con la parola, perché la parola è vita, e dove c'è vita c'è luce per gli uomini. Solo che gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce, hanno preferito il silenzio alla parola, hanno preferito la solitudine alla relazione, ma la parola no. Lei non si è stata zitta, lei non ha taciuto, non ce l'ha fatta. Lei parla a chi non parla, dà voce a chi non ha voce, esprime quello che nel tuo cuore imbavagli. Oggi non tacere, oggi parla e crea vita con quelle parole che non usi mai, perché la parola si è fatta carne ed ora è venuta ad abitare da te. Usala.